Voi sapete perché il bordo libero è importante su un'imbarcazione e sapete perché si chiama opera viva la carena? Queste sono tutte domande a cui daremo risposta in questo video, un video tutto dedicato alla terminologia dello scafo. Venite con me, scoprirete molte cose interessanti. Siamo sul molo principale di Marina Caladesardi, il marina più verde d'Italia. Voi sapete che questa è la nostra base principale dove veniamo a girare buona parte dei nostri video. Veniamo qui perché qui il gruppo NSS è in grado di darci tutto il supporto che ci serve per fare i video che sono sempre più complessi che vogliamo realizzare per il nostro canale YouTube. Questa volta parliamo di patente nautica. Questo è il secondo episodio della serie La Patente Nautica. Abbiamo detto che non vogliamo fare un corso per la patente nautica ma vi vogliamo dare tutta una serie di suggerimenti per capire meglio le domande che vi fanno i quiz. Questa volta parleremo di terminologia per l'esattezza della terminologia dello scafo. Perciò andremo ad analizzare i nomi delle varie parti della barca e anche in parte a cosa servono quelle parti dell'imbarcazione. Per cui penso che sarà un video molto interessante. La prossima puntata invece sarà dedicata a manovre correnti, manovre dormienti e l'albero. Detto questo vi ricordo che questi video escono in prima istanza riservati per gli abbonati del canale YouTube di SVN solo per la net e tra qualche mese invece saranno di libera visione. E quindi vi invito a seguirmi e andiamo a scoprire la terminologia dello scafo. In questa puntata della Patente Nautica parleremo di terminologia, la terminologia delle varie componenti dell'imbarcazione, cioè andremo a identificare tutte le parti della barca e alcune di queste vi spiegheremo anche il perché esistono e a cosa servono. Qui con me ho l'ingegnere Antonio Coi. L'ingegnere Coi già l'avete conosciuto e quantomeno nella prima puntata della Patente Nautica, qui stiamo nella seconda, ma ci seguirà anche in tutta questa prima stagione. Coi è un perito navale, per cui è una persona particolarmente addentro alle questioni della barca, è un periodo navale che quando ha del tempo libero, siccome non può stare lontano dalle barche, cosa fa? Insegna per i corsi delle Patenti Nautiche nella sezione della Lega Navale di Lerici, per cui è un personaggio che ha questa doppia conoscenza che per noi qui è proprio l'ideale, cioè una persona che conosce bene come funziona la Patente Nautica, conosce i quiz e conosce anche l'esame, ma al contempo è una persona che per sua formazione professionale conosce molto bene l'imbarcazione. Ciao Antonio. Buongiorno Maurizio. Antonio, dopo questa lunga presentazione vi direi di parlare delle varie parti dell'imbarcazione. Partiamo da poppa e piano piano arriviamo fino a prua. A te. Sì, allora io introdurrei i principali termini dello scafo. Partendo da poppa troviamo lo specchio di poppa, quindi che è quella parte dello scafo che chiude lo scafo verso poppa. Perfetto. Spostandoci un po' verso prua troviamo il giardinetto. Il giardinetto è sempre quella parte delle fiancate, quindi dello scafo, prossime alla poppa, quindi che si avvicina, quindi le fiancate, e tutta quella parte delle fiancate che si avvicina alla poppa. Parliamo sempre di giardinetto sinistro e giardinetto di dritta, perché è importante individuare le due. Sempre su che murata ci troviamo. Esatto. Spostandoci verso avanti troviamo il mascone, quindi quella parte dello scafo e le fiancate che vanno a chiudere lo scafo e ci portano verso la prua, che è la parte estrema dello scafo. Qui voi lo vedete nelle barche da crociera come questa praticamente il mascone inizia dove comincia a stringersi lo scafo e fa due linee curve che chiudono sulla prua. Curve perché così mi da più volume all'interno della cabina di prua. Nelle barche da regata invece queste qui sono proprio dritte, infatti si dice che la barca ha le diagonali dritte. Dal mascone andiamo? Quindi dal mascone andiamo verso prua. La prua quindi è questa parte, è la parte estrema dello scafo che si chiude sul dritto di prua, che quindi è questa linea, il dritto di prua è la linea dove vanno a convogliare, a confluire le due murate. Benissimo. Quindi se vogliamo guardare il nostro scafo dall'alto individiamo, passami il termine Maurizio, il tappo della nostra barca. Rende perfettamente l'idea. Questo qui si chiama coperta, ponte di coperta. Ponte di coperta, benissimo. A sua volta è suddiviso in varie zone, in varie aree e ogni zona ha il proprio termine, come tutto in barca. Certamente. Questo qui è il nostro ponte di coperta, che nella parte prodiera viene chiamata, individuata con triangolo di prua. Benissimo, questo qui è il triangolo di prua, da dove finisce la parte rialzata della barca fino all'estrema prua. E quando parliamo, quando facciamo le prove in mare, voi mi sentite spesso parlare del triangolo di prua perché è una zona importante. Sulle barche da regata deve essere particolarmente ampio perché io qui vengo a lavorare alle vele di prua. Sulle barche da crociera solitamente è un pochino più stretto perché cede spazio invece al rialzamento centrale che serve a dare volume all'interno dello scafo. Ok, questo rialzamento ha a sua volta anche lui un nome e si chiama tuga. Io non l'ho detto per non levare a te la cosa di dirla. Quindi la tuga è questa parte della coperta che si alza e dà, appunto come lo hai già detto, maggiore altezza agli interni. Per uno alto come me è fondamentale perché è quello che mi permette di stare in piedi dentro la barca. Spostandoci verso Poppa troviamo il pozzetto. Però io prima di arrivare in pozzetto parlerei di questi corridoi che io ho lateralmente che si chiamano passavanti. Questi sono i passavanti, voi mi sentite spesso dire passavanti o stretto, i passavanti invece sono larghi. I passavanti sono delimitati dalla falchetta, la falchetta è la parte più alta della barca che per esempio in questa barca qui è integrata con lo scafo, è quel gradino che voi vedete proprio sul bordo dell'imbarcazione. Adesso percorriamo i nostri passavanti e arriviamo invece nella zona poppiera dell'imbarcazione. Sì, arriviamo in pozzetto. Questa zona si chiama appunto pozzetto ed è la zona dove viviamo, sono presenti le timonerie e quindi timoniamo la nostra barca. E anche il pozzetto noi lo dividiamo in due zone. Zona operativa, cioè zona timoneria dove sono le due ruote o nelle barche un pochino più datate, la ruota centrale, è la zona ospiti per le barche da crociera o la zona equipaggio per le barche da regata che è la zona dove si trovano le panche. Al termine delle panche, verso prora, verso prua, io ho l'accesso all'imbarcazione e quell'accesso si chiama tambuccio. Bene, detto questo immaginiamo di guardare invece la nostra barca, il nostro scafo di lato dal profilo. Benissimo. E immaginiamo lo specchio acqueo del mare, quindi livello del mare, come se tagliasse in due il nostro scafo. Quindi individuiamo due termini importanti, uno è l'opera morta e l'altro è l'opera viva. L'opera morta è la parte al di sopra della linea di galleggiamento, questa linea immaginaria che taglia lo scafo in due, e l'opera viva è la parte immersa dello scafo, quindi è la parte che si trova tutta sott'acqua. Oh, e l'opera viva è la carena in pratica, è la parte che naviga, infatti si chiama opera viva, proprio per questo, perché ai fini della navigazione è la parte viva, invece l'opera morta ai fini della navigazione conta poco in effetti. Ma l'opera morta include un altro termine molto importante che è quello di bordo libero. Lo spazio che va tra la linea di galleggiamento e la mia falchetta è il bordo libero. Voi mi sentite più volte dire a un bordo libero alto, a un bordo libero basso. E calcolare il bordo libero è importante per quale motivo? Il bordo libero è un fattore molto importante, è in fase di progetto di una barca e determina la riserva di galleggiabilità del nostro scafo. Ottimo. Però la carena non è soltanto lo scafo, io sotto la barca non ho solo la carena. No, ci sono le appendici. Le appendici. L'appendici che si trova nella parte centrale dello scafo, che è nella maggior parte delle nostre barche imbullonata appunto lo scafo, e che si chiama piano di deriva, è la deriva. Ha due funzioni principali la deriva, serve appunto a permettere il funzionamento della nostra barca a vela, lo vedremo magari in corsi più avanti. Però senza la deriva non riusciamo a muoverci a vela. Perché grazie alla deriva la vela funziona. E ha un'altra funzione importante, poiché questa deriva è sempre fatta o di ghisa o di piombo, a dare tanto ad abbassare il baricentro della barca. Quindi serve appunto a raddrizzare la barca quando la barca è sotto sbandamento. Passiamo invece ai... Parliamo del timone. Un'altra appendice presente, diciamo, ripassami di nuovo il termine, attaccata al nostro scafo nella parte inferiore, quindi dall'opera viva. Il timone, ora se ne vedono tanti scafi con due timoni, quindi abbiamo delle barche monotimone o bitimone. Benissimo, abbiamo delle barche che hanno doppia palla del timone e delle barche che hanno una palla del timone che si chiama appunto monopala, perché questa differenza dipende dalla carena. Se la carena è molto larga, io ho bisogno di mettere due palle del timone, perché quando la barca inclina, una palla sola rischia di uscire fuori e non permettermi di governare l'imbarcazione. Se invece la carena è stretta, anche quando è molto inclinata, mi garantisce di avere la palla del timone dentro l'acqua, per cui a quel punto io posso continuare ad avere un monopala. Però attenzione, io ho parlato di carena, non di barca, perché ci sono delle barche che sono molto larghe, che hanno una carena stretta, quindi portano il monopala. Ad esempio, questa barca qui è un Oceanis 46.1, questa ha una poppa molto larga, sia fuori dalla barca che sotto, anche la carena è molto larga, quindi quando sbanda rischia di mettere fuori il monopala, infatti ha doppia palla del timone. C'è il Dufour 470, che è la barca direttamente concorrente a questa, ha la stessa larghezza, la stessa grandezza, siccome invece ha una carena stretta, quella barca lì ha un monopala. Sì, sono scelte progettuali che dipendono tanto dalle linee di carena. Io parlai con Biscontin, che è il progettista del Festegg 53, che mi ha detto che uno dei motivi per cui loro hanno messo le doppie pale del timone è che devono mettere il garage. E per mettere il garage dove si mette il tendere, lì non c'è scelta, bisogna per forza mettere le doppie pale, se no ci troveremo con l'asse del timone al centro della barca. Beh, ovvio, un progetto è un compromesso di tante… Il progetto è sempre un compromesso. Sotto coperta adesso vedremo alcuni termini che stanno a indicare veramente delle strutture, e sono strutture molto importanti. Antonio ce ne illustri? Sì, allora, lo scafo ovviamente, come qualsiasi struttura meccanica, ha bisogno di suoi rinforzi. Partendo dal basso, dal fondo del nostro scafo, troviamo le strutture cosiddette del fondo. Queste si dividono tra trasversali e longitudinali. Le prime sono i madieri, le strutture quindi trasversali. Le seconde, i longitudinali, vengono chiamati paramezzali. Questi termini che useremo valgono sia su barche costruite in vetro resina che su barche di altri tipi di costruzioni, quali acciaio o alluminio. Passando invece sulle strutture del ponte, anche esse si dividono sempre tra trasversali e longitudinali, ma hanno dei nomi differenti. Le trasversali si chiamano bagli, le longitudinali, non spesso presenti sulle barche di costruzione, uscita in vetro resina, si chiamano anguille o correnti. Un altro elemento importante, strutturale, di tipo trasversale, sono le paratie. Su queste barche qui vediamo... Questa è la paratia principale, la paratia centrale. Non è l'unica, ne hanno altre ovviamente. Abbiamo diverse paratie lungo la barca, in particolare vi parlo della paratia che divide l'abitacolo dell'imbarcazione dal gavone di poppa, dove poi troviamo tutta l'attrezzatura inerente ai timoni, e la paratia dalla parte opposta della barca che divide l'abitacolo dal gavone delle ancore. Quella è una paratia particolarmente importante, si chiama paratia antisfondamento. È concepita in maniera tale che se voi fate una collisione con uno scoglio o con una nave e avete un grave danno sulla prua, l'acqua che entra da prua non può arrivare qua, proprio perché trova la paratia antisfondamento. Le paratie sono delle strutture fondamentali su un'imbarcazione, tanto è vero che dovrebbero essere resinate completamente sopra, sotto e lateralmente allo scafo per dare la massima robustezza. Sì, questi sono termini che troviamo sia su barche a motore che su barche a vela. In particolare noi siamo ora su una barca a vela e vediamo altri due elementi importanti, principali. Il primo è questo qui che è accanto a te Maurizio, il puntello dell'albero, il contralbero e serve appunto a sostenere l'albero e tutti gli sforzi e i carichi derivanti. Il secondo elemento sono queste parti in acciaio che servono anch'esse a trasferire i carichi e gli sforzi del sartiame allo scafo, alle strutture dello scafo, attraverso le lande, quindi queste parti dove si va ad agganciare il sartiame allo scafo si chiamano lande. Perché tutto quanto deve confluire, tutti gli sforzi devono confluire qui sulla chiglia perché è la parte più solida, più robusta dello scafo. Parliamo un attimo del contralbero. Il contralbero esiste solo nelle barche che hanno l'albero poggiante. L'albero poggia in coperta, dall'albero arrivano tutti gli sforzi che passano dalle vele all'albero, questi sforzi devono arrivare in chiglia per cui ci arrivano camminando su questo contralbero. Ma ci sono delle barche, dei performance, delle barche da regata che non hanno l'albero poggiante, hanno l'albero passante. Cioè il loro albero buca la coperta e arriva giù e è l'albero che va direttamente a toccare il rinforzo della chiglia. Per cui tutti gli sforzi si scaricheranno direttamente albero chiglia. Lo usano le barche da regata perché questo sistema permette una regolazione migliore dell'albero. L'albero passante mi crea due nuovi termini. Il primo è quello che indica il buco attraverso il quale passa l'albero che si chiama mastra. Il secondo che però è in comune anche col contralbero è il punto dove l'albero passante o il contralbero poggiano sullo scafo che si chiama scassa. E con questo vi abbiamo illustrato, chiaramente non tutti perché saremo qui delle ore, ma i termini principali che individuano le parti principali di un'imbarcazione. Nel prossimo video invece vi parleremo del propulsore principale di una barca a vela, ovvero l'albero e le vele. Parleremo dell'albero, delle manovre correnti, delle manovre dormienti e se ce la faremo parleremo anche delle vele. Con questo Antonio io ti saluto, ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima puntata e ringrazio anche voi. Vi ricordo che questo è un video che inizialmente è visibile solo agli abbonati a SVN Solo VelaNet. Dopo qualche mese diventerà libero per tutti. Andate sul nostro canale, andate a vedere quale video ci sono, perché ci sono dei video che poi non saranno mai visibili a tutti, perché sono riservati agli abbonati. Sono tutti video molto interessanti e giustificano ampiamente il fatto di abbonarsi al nostro canale. Con questo vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo VelaNet. Grazie a tutti.